sabahul khair buongiorno 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 taba mesaiuk buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio Buonasera 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 Tosbih ala khair Buonanotte 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 Kaifahaluk? Come stai? Come stai? Come stai? Kaifahaluk? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come va? Ana bi khair, shukran lak. Sto bene, grazie. Sto bene, grazie. Sto bene, grazie. Leysa sey'en. Niente male. Niente male. Niente male. Ana bi khairin jiddan. Sto molto bene. Sto molto bene. Sto molto bene. Leysa jayidan. Non molto bene. Non molto bene. Non molto bene. Ilan liqaa. Arrivederci. 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 Ilan liqaa. Ciao. 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 Araka lahiqan. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Araka lahiqan. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Che hai fatto in questo periodo? Che hai fatto in questo periodo? Che hai fatto in questo periodo? Leysa kathira. Niente di che. Niente di che. Niente di che. Sono stato molto impagniato. Sono stato molto impagniato. Piacere di conoscerti. 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 Araka qari ban. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Araka ghadan. Ci vediamo domani, ci vediamo domani, ci vediamo domani. Stammi bene, stammi bene, stammi bene, stammi bene. Si, si. La, no, no, no. Ho, no, 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 no. Forse, forse. Shukrenlek. Grazie. 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 Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Alla rămâbì. Prego. 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 Per favore Mi scusi Mi scusi Mi scusi Mi scusi Scusi, che ore sono? Scusi, che ore sono? Scusi, che ore sono? Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace La yurid muskila Nessun problema Nessun problema Nessun problema L'amor bichair Non importa Non importa Non importa Parli arabo Parli arabo Parli arabo Parli inglese Parli inglese Parli inglese Parli inglese Parli tedesco Parli tedesco Parli tedesco أنا لا أتحدث الألمانية Non parlo tedesco Non parlo tedesco Non parlo tedesco أنا أتحدث الإنجليزية Parlo inglese Parlo inglese Parlo inglese Il mio inglese non è ottimo Il mio inglese non è ottimo Il mio inglese non è ottimo Non lo so Non lo so Non lo so هل تفهم? Capisci? 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 أنا أفهمك Capisci? 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 Non capisci? Non capisci? Non capisco هل من الممكن أن تعدها مرة أخرى إذا سمحت هل من الممكن أن تعدها؟ هل تفهمك 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 Cos'è quello? Min fadlik iktubha Per favore scrivilo Per favore scrivilo Per favore scrivilo Come si dice ciao in tedesco? Come si dice ciao in tedesco? Come si dice ciao in tedesco? Eine ente? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sono a casa Sono a casa Sono a casa Sono al lavoro Sono al lavoro Sono al lavoro Che lavoro fai? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Sono al lavoro Sono al lavoro Voglio imparare l'inglese Voglio imparare l'inglese Voglio imparare l'inglese Mi aiuteresti per favore? Mi aiuteresti per favore? Mi aiuteresti per favore? Mi aiuteresti per favore? Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? هل أستطيع مساعدتك? Posso aiutarti? Posso aiutarti? Posso aiutarti? Mi sono persa Mi sono persa Mi aiuteresti per favore? 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 Qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Come ti chiami? Come ti chiami? Ismi John. Mi chiamo John. Mi chiamo John. E ne è John. Sono John. Sono John. Sono John. Mi chiamo John. Di dove sei? Di dove sei? Di dove sei? Ma è la sua nazionalità? Qual è la sua nazionalità? Qual è la sua nazionalità? Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dalla Spagna. 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 . Vengo dalla Spagna. Vieni da dove sognù è? Dove vivi? Dove vivi? Ana uqimu bi Aspania Io vivo in Spagna Io vivo in Spagna Io vivo in Spagna Sono nata a Berlino Sono nata a Berlino Sono nata a Berlino Sono cresciuto in Germania Sono cresciuto in Germania Sono cresciuto in Germania Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? Oggi Che tempo fa oggi? Che ore sono? 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 Sono le due Sono le due Sono le due Che ore 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 sono le due Qual è il tuo indirizzo e-mail? 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 Buon lavoro, buon lavoro Buon Natale, buon Natale Buon compleanno Buon compleanno Auguri 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 Tehenina Congratulazioni Congratulazioni Grazie a tutti Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio Buon appetito Buon viaggio 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 uno uno due tre 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 arba quattro 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 Cinque, 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 sette, sei, 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 Saba, sette, 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 Samaenia, otto, 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 Tisa Nove 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 Asher Dieci 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 Al-Ithnain Lunedee 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 Al-Thulatah Martedee 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 Al-Arbaha Mercoledee 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 Al-Khamis Al-Khamis Jopedi 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 Venerdee Venerdee Al-Satth Sabato 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 Al-Ahad Domenica 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 Ems Yari 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 Ghadan Domani 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 Muttaru an adhaba al'an Devo andare adesso Devo andare adesso Devo andare adesso Hada yabdu jaydan Ottima idea Ottima idea Ottima idea هل أنت متأكد Sei sicura? Sei sicura? Sei sicura? Sei sicura? Non sono sicura بالتأكيد Va bene Non ti preoccupare هل يمكنك Non so come spiegarlo Non so come spiegarlo Non so come spiegarlo Non so come spiegarlo in inglese Non so come dirlo in inglese Non so come spiegarlo Non so come spiegarlo In inglese Non so come spiegarlo Non so come spiegarlo Innahu nau'un min al haiwanat E' una specie di animale E' una specie di animale E' una specie di animale Puoi leggere questo paragrafo? Puoi leggere questo paragrafo? Puoi leggere questo paragrafo? Puoi leggere questa parola? Puoi leggere questa parola? Puoi leggere questa parola? Non so come usare questa parola Non so come usare questa parola Non so come usare questa parola Come si pronuncia? 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 Quanto resterete qui? Quanto resterete qui? Quanto resterete qui? S'amkuthu l'isbuoin هنا Resterò qui per una settimana Resterò qui per una settimana Resterò qui per una settimana Sono qui solo per una settimana Sono qui solo per un giorno Sono qui solo per un giorno متى سترحل? quando te ne vai? quando te ne vai? quando te ne vai? سأرحل غدا me ne vado domani me ne vado domani me ne vado domani لماذا أنت هنا? perché sei qua? perché sei qua? perché sei qua? أنا هنا للأجازة sono qui in vacanza sono qui in vacanza sono qui in vacanza sono qui per lavoro sono qui per lavoro sono qui per lavoro هذه بطاقتي ecco il mio biglietto da visita ecco il mio biglietto da visita ecco il mio biglietto da visita io amo questo posto amo questo posto amo questo posto cosa ti piace in particolare? cosa ti piace in particolare? cosa ti piace in particolare? mi piace in particolare? mi piacciono le persone 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 mi piace il cibo mi piace il cibo che tempo fa oggi? che tempo fa oggi? che tempo fa oggi? satumtur pioverà 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 il fà freddo fa freddo fa freddo fa freddo fa freddo Fa caldo. Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Ho caldo. Ho caldo. Ho caldo. Ascioro bilberd. Ho freddo. Ho freddo. Ho freddo. Ascioro bitahassun. Sto bene, grazie. Sto bene, grazie. Sto bene, grazie. Sono stancca. Sono stancca. Sono triste. Sono triste. Sono triste. Ana sa'id. Sono felice. Sono felice. Sono felice. Sono felice. Ho sete. 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 Nient'altro? 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 Questo è tutto qui Tutto qui Tutto qui Ehlen Ciao 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 Sabahul khair Buongiorno Buon pomeriggio Mese'ul khair Buonasera 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 Che hai fatto in questo periodo? Lei se capire. Niente di che. Niente di che. Niente di che. Sono stato molto impegnato. Sorirti bimocabalatik. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Arake gadan. Ci vediamo domani. 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 No. No. No Hasenen Ok 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 Rubbama Forse 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 Shukranlek Grazie 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 mille Grazie mille Grazie mille Alarrahabi Prego 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 Per favore Per favore Arrahabi Miscusi 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 Che ore Che ore sono Scusi Che ore sono Scusi Che ore sono Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace L'amor Bi khair Non importa Non importa Non importa Non importa Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Parli Arabo Per favore 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 Un po' Un po' Una la a-tahadda-thu l'almaniyah Non parlo tedesco Non parlo tedesco Non parlo tedesco Una a-tahadda-thu l'inglesiya Parlo inglese Parlo inglese Il mio inglese non è ottimo Il mio inglese non è ottimo Il mio inglese non è ottimo La a-tahadda-thu l'almaniyah Non lo so Non lo so Non lo so Hel t'f'ham? Capisci 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 Una a-tahadda-thu l'almaniyah Capisci 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 Una a-tahadda-thu l'almaniyah Capisci 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 هل من الممكن أن تعيدها مرة أخرى إذا سمحت؟ Puoi ripetere per favore؟ Puoi ripetere per favore؟ Puoi ripetere per favore؟ هل من الممكن أن تتحدث ببطء أكثر إذا سمحت؟ Puoi parlare più lentamente per favore؟ Puoi parlare più lentamente per favore؟ Puoi parlare più lentamente per favore؟ ما الأمر؟ Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è questo? ما هذا؟ Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Per favore scrivilo Per favore scrivilo Come si dice ciao in tedesco? Come si dice ciao in tedesco? Come si dice ciao in tedesco? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sono in tedesco? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sono in casa Sono al lavoro. Sono al lavoro. Sono al lavoro. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Sono un insegnante. Sono un insegnante. Sono un insegnante. Sono uno studente. Sono uno studente. Sono uno studente. Voglio imparare l'inglese. Voglio imparare l'inglese. Voglio imparare l'inglese. Voglio imparare l'inglese. Tu mi aspeti, per favore. mi aiuteresti per favore mi aiuteresti per favore هل تستطيع مساعدتي هل تستطيع مساعدتك 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 كم tucallif? quanto costa? quanto costa? quanto costa? ما هو ismuk? qual è il suo nome? ما هو ismuk? come ti chiami? come ti chiami? ismi John mi chiamo John mi chiamo John mi chiamo John sono John sono John di dove è lei? di dove è lei? mi chiami? mi chiami? di dove è lei? di dove è lei? Ma è la sua nazionale? Qual è la sua nazionale? Qual è la sua nazionalità? Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dalla Spagna. 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 Sono cresciuto in Germania. Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Sono le due. Sono le due. Sono le due. Che ore 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 sono le due. Buona fortuna Ahsant Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon compleanno Buon compleanno Buon compleanno Auguri 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 Tehenina Congratulazioni 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 Rahimakallah Salute 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 Rahletu muwaffaqa Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Ana Eu Hibbuk Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo Ana Ti amo anche io Ti amo anche io Ti amo anche io 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Arba 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 13 13 14 14 15 15 19 15 15 16 16 16 19 16 19 20 20 20 21 22 lunedì 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 azzolata martedì 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 l'arbi mercoledì 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 l'5 giubèdì 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 al-7 sabato 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 l'ahad domenica 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 اليوم oggi 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 enns Yari 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 Ghadan Domani 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 Muttaru an adhaba l'an Devo andare adesso Devo andare adesso Devo andare adesso Hada yabdu jayida Otima idea Otima idea Otima idea Hel ente متأكd Sei sicura? Sei sicura? Sei sicura? L'estumute ecchiden Non sono sicura Non sono sicura Non sono sicura Bilttakeid Va bene Va bene Va bene لا تقلق Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare هل يمكنك أن تشرح هذه لي؟ Puoi spigarmi questo? Puoi spigarmi questo? Puoi spigarmi questo? لا أعرف كيف أشرح Non so come spigarlo Non so come spigarlo Non so come spigarlo Non so come dirlo in inglese Non so come dirlo in inglese Non so come spigarlo 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 in inglese على سبيل المثال Per esempio Per esempio Per esempio È una specie di animale 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 Non so come spigarlo in inglese Non so come usare questa parola Non so come spigarlo in inglese Non so come usare questa parola Cيف تنطقها Cيف تنطقها Come si pronuncia? Cammin al wakti satemkuthu huna? Quanto resterete qui? Quanto resterete qui? Quanto resterete qui? S'amkuthu li esbooin huna Resterò qui per una settimana Resterò qui per una settimana Resterò qui per una settimana Sono qui solo per un giorno Sono qui solo per un giorno Sono qui solo per un giorno Metà saterhal? Quando tenevai? Quando tenevai? S'arhalo gadan Menevado domani Menevado domani Menevado domani Lui ma化 Menevado domani Menevado domani Menevado domani Perchesi qua? Perchesi qua? Perchesi qua? أنا هنا للأجازة sono qui in vacanza sono qui in vacanza sono qui in vacanza أنا هنا للأمال sono qui per lavoro sono qui per lavoro sono qui per lavoro هذه bitaquتي ecco il mio biglietto da visita ecco il mio biglietto da visita ecco il mio biglietto da visita Amo questo posto Amo questo posto Amo questo posto cosa ti piace in particolare cosa ti piace in particolare cosa ti piace in particolare Amo questo posto Mi piace il tempo Mi piace il tempo Mi piace il tempo Amo questo posto Mi piacciono le persone Mi piacciono le persone Mi piacciono le persone Mi piace il cibo Mi piace il cibo Mi piace il cibo Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? Pioverà 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 Fa caldo, fa caldo. Che hai fatto a shower? Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. O caldo. O caldo. O caldo. O caldo. O freddo. O freddo. O caldo. O caldo. O caldo. Sono stanca. Sono stanca. Sono stanca. O caldo. O caldo. O caldo. O caldo. sono felice ho fame ho fame ho fame ho fame ho sete ho sete ho sete vuoi mangiare qualcosa? vuoi mangiare qualcosa? vuoi mangiare qualcosa? lel turidu an tashrabži haven? cuo za vuoi bere? cuo za vuoi bere? cuo za vuoi bere? أتريد شيئا آخر Nient'altro 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 هذا كل شيء Tutto qui Ehlen Ciao Ciao Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Meseo الخير Buonasera 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 Tosbih ala khair Buonanotte 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 Comestai 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 Etali Comestai Sto bene, grazie Sto bene, grazie Sto bene, grazie Leis sei'n Niente male Niente male Niente male Sto molto bene Sto molto bene Sto molto bene Leis sei'n Non molto bene Non molto bene Non molto bene Ilalliqa Arrivederci 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 Ilalliqa Ciao 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 Ci vediamo dopo 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 Che hai fatto in questo periodo Che hai fatto in questo periodo Che hai fatto in questo periodo Niente di che Niente di che Niente di che Sono stato molto impegnato Sono stato molto impegnato Sono stato molto impegnato Piacere di conoscerti Piacere di conoscerti Che hai fatto in questo periodo 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 Ci vediamo domani, ci vediamo domani, ci vediamo domani. Intabih linafsic. Stammi bene, stammi bene. Stammi bene. Naam. Si. 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 La. No. 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 Hasen. Ok Rubba me Forse 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 Shukrenlek Grazie 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 Aschkuro Kajitten Grazie mille Grazie mille Grazie mille Alarrahabi Prego 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 Per favore Per favore Per favore Azzaran Miscuzi Mi scusi Mi scusi Mi scusi Scusi Che ore sono Scusi Che ore sono Mi scusi Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Non importa Non importa Non importa Non importa هل تتحدث العربية? parli arabo? parli arabo? parli arabo? هل تتحدث l'inglese? parli inglese? parli inglese? parli inglese? هل تتحدث العربية? parli tedesco? parli tedesco? parli tedesco? parli inglese? 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 Non parlo tedesco Non parlo tedesco Non parlo tedesco Anna atahadatul inglesiyya Parlo inglese Parlo inglese Parlo inglese L'orati al inglesiyya, lei seggeide Il mio inglese non è ottimo Il mio inglese non è ottimo Il mio inglese non è ottimo Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Capisci 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 Ma l'amr? Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è questo? Ma هذا? Cos'è quello? Cos'è quello? Min fadlik iktubha. Per favore scrivilo. Per favore scrivilo. Per favore scrivilo. Come si dice ciao in tedesco? Come si dice ciao in tedesco? Come si dice ciao in tedesco? Dov'y say? Dov'y say? Dov'y say? Come si dice ciao in tedesco. Come si dice ciao in tedesco. Sono al lavoro. Sono al lavoro. Sono al lavoro. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Sono un insegnante. Sono un insegnante. Sono un insegnante. Sono uno studente. Sono uno studente. che lavoro fai. Inizia si chiama. Io faccio. Aspettare le parole. Che lavoro fai l'inglese. Ma credo che faccio il mondo? Voglio imparare l'inglese. هل من الممكن أن تساعدني أرجوك؟ Mi aiuteresti per favore Mi aiuteresti per favore Mi aiuteresti per favore هل تستطيع مساعدتي؟ Puoi aiutarmi؟ Puoi aiutarmi؟ Puoi aiutarmi؟ هل تستطيع مساعدتك؟ Posso aiutarti؟ Posso aiutarti؟ Posso aiutarti؟ أنا ديه Mi sono persa Mi sono persa Mi sono persa Un momento per favore Un momento per favore Un momento per favore Quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? Qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Ma è il suo nome? Pl килógaco Si chiama? Qual è il nostro nome? Mi chiamo John. Anna John. Sono John. Sono John. Sono John. Min aine ente. Di dove è lei? 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 Di dove sei? qual è la sua nazionalità? Qual è la sua nazionalità? Qual è la sua nazionalità? Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dalla Spagna. 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 Vengo all dati. Vengo all dati Dove vivi? Anna uqimu bi Espanya Io vivo in Spagna Io vivo in Spagna Io vivo in Spagna Uelitú fi Berlín Sono nata a Berlino Sono nata a Berlino Sono nata a Berlino Sono cresciuto in Germania Sono cresciuto in Germania Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Inna hathania Sono le due Sono le due Sono le due Che ore sono le due Che ore sono le due Hai soldi? Hai soldi? Hai soldi? Hai soldi? Hai soldi? E' inna da ora tu il mie Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Chiama Omruk. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? أنا في الثلاثون من العمر. O trenta anni. O trenta anni. O trenta anni. Ma هو عنوانك? Qual è il tuo indirizzo? Qual è il tuo indirizzo? Qual è il tuo indirizzo? Ma هو رقم هاتفك? Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Aين أنت ذاهب? Dov'è vai? Dov'è vai? Dov'è vai? Ma è il tuo numero di telefono? Ma è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo indirizzo e-mail? la tua vita? Buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna. Buon lavoro. Buon lavoro Buon lavoro Buon Natale Buon Natale Buon Natale كل عام وأنت بخير Buon compleanno Buon compleanno Buon compleanno في صحتك Auguri 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 Tehenina Congratulazioni 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 Rahimakallah Salute 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 Buon appetito 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 ZERO 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 BES 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 ITHNAN ITHNAN DUE 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 QUATTRO 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 SEI 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 SEBBA SETTE 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 SEMENIE OTTO 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 TESA NOVE 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 ACHRA DIECI 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 ALITHNAN LUNEDÌ 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 LUNE MERCOLDY 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 الخميس جوبدي الجمعة venerdì venerdì esser sabato 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 l'ahad domenica 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 اليوم oggi 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 ens ieri ieri gadan domani 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 mottr'u an adha'b 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 ottima adha'b 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 non so come dirlo in inglese non so come dirlo in giapponese non so come dirlo in giapponese non so come dirlo in giapponese adha'b 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 E' una specie di animale. Puoi leggere questo paragrafo? Puoi leggere questo paragrafo? هل تستطيعo قراءة هذه الكلمة? Puoi leggere questa parola? Puoi leggere questa parola? Puoi leggere questa parola? Non so come usare questa parola. Non so come usare questa parola. Non so come usare questa parola. Come si pronuncia? Come si pronuncia? Come si pronuncia? Come si pronuncia? Quanto resterete qui? Quanto resterete qui? Quanto resterete qui? S'amkuthu l'isbuoin هنا. Resterò qui per una settimana. 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 Quando te ne vai? S'è arhalo gadan. Me ne vado domani. Me ne vado domani. Limază entă huna? Perchè sei qua? Perchè sei qua? Perchè sei qua? Perchè sei qua? Ana huna lil'amal. Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. Ecco il mio biglietto da visita. Ecco il mio biglietto da visita. Ecco il mio biglietto da visita. Amo questo posto. Amo questo posto. Amo questo posto. Cosa ti piace in particolare? Cosa ti piace in particolare? Cosa ti piace in particolare? Mi piace il tempo. Mi piace il tempo. Mi piace il tempo. Mi piacciono le persone. Mi piacciono le persone. Mi piacciono le persone. Mi piace il cibo Che tempo fa? Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? Pioverà 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 Fa freddo Fa caldo Fa caldo Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti? O caldo O caldo O caldo Sto bene Mi senti? Mi senti? Sono triste Sono triste Mi senti? 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 Mi senti?